Come è stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi, domani inizieranno i lavori di messa in sicurezza della condotta idrica delle fiume freddo nella zona di Contrada Fonda Coparrino a Forza d'Agro. L'ufficialità è arrivata nella tarda serata di ieri. L'azienda meridionale Acqua e di Messina ha annunciato che nelle giornate di domani e giovedì l'erogazione idrica in città sarà effettuata con orario ridotto dalle 4 alle 11. Di saggi anche questi annunciati nel corso della conferenza stampa tenuta dal presidente Leonardo Termini e dal direttore generale Luigi Larosa e che l'AMAM pensa ora di fronteggiare allertando sin da adesso Prefettura, Protezione Civile, Comune e Forestale. Le difficoltà maggiori potrebbero verificarsi dopo domani quando i grandi serbatoi cittadini come il Monte Santo e il Tremonti si svuoteranno. Se i piani di intervento saranno rispettati e tutto andrà come stabilito nella tabella di marcia nella mattinata di venerdì il ritorno al servizio regolare. Chi non si accorgerà dell'assenza di acqua saranno i cittadini residenti nelle zone fornite dall'Acquedotto della Santissima. L'intervento a forza d'agro affidato alla ditta Trigeo SRL di Brolo costerà circa 200.000 euro. Sarà realizzata una barriera difensiva che avrà il compito di proteggere la condotta. Con l'ausilio di un macchinario saranno collocati 12 pali nella roccia. Si tratta pur sempre di una soluzione tampone. L'area di Fonda Coparrino è interessata da un preoccupante fenomeno di dissesto idrogeologico. L'AMAM sta intervenendo preventivamente ma non escluso che si debbano realizzare altri lavori per mettere al sicuro le tubazioni che portano l'acqua a Messina.